Oh no! Volete un panino? Camale, ma quante cose bisogna fare per essere desiderati? Paolo Bonolis, con la comicità di Martufello Marinze Martufello del Battaglione di Rocca Sticchina di Sotto Agli ordini, signore! Presenta Beato tra le donne Domani alle 20.50 Su Canale 5 Nutriente Golosa Nutriente Al cacao L'ora di merenda rischia di essere un braccio di ferro tra mamme e ragazze Per fortuna c'è Kinder Deliz Ma così non vale Kinder Deliz ha tanto latte quanto cacao E la ricetta Kinder, tanto nutriente quanto gustosa Per questo mette d'accordo mamme e ragazzi Domani qui Stesso posto, stessa ora Sì, però con Kinder Deliz Kinder Deliz, l'equilibrio giusto tra nutrimento e gusto Sai zia Olga, i cannelloni che mi hai fatto ieri mi hanno ricordato proprio l'infanzia Vedi e li faccio? No, oggi cucino io Vediamo un po' Ah, hai capito la zia come fa la pasta in casa Rotolo di pasta all'uovo buitoni Ieri cannelloni, oggi lasagne Allora, cosa mi dici? Buonissime Proprio come le fai te E il tempo libero cosa fai? Danza, jazz Bravissimo Rotolo di pasta all'uovo buitoni La tua pasta fatta in casa Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori That's it Grana Padano Buono per la vita Un pacchetto Vedo Vedo Io due Vedo 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 Quattro jack Quattro donna Quattro k Quattro assi Eh vabbè ragazzi se cominciamo coi miracoli allora ditelo eh Posso? Preparo un altro caffè È buono Qui non è questione di fortuna Grazie a quelli da rossa Lavazza più lavazza che c'è Posso darle un consiglio? Lasci perdere le carte che oltretutto giochi piuttosto a nascondino Ci ho provato Ho perso anche lì È la nostra prima casa La prossima con l'ascensore Ehi ma quanto calcare Non va via Arma segreta Via Cal è insuperabile contro il calcare Accidenti Come brilla Certo è Via Cal Via Cal numero uno contro il calcare Nei nostri negozi occhiali su misura a partire da 99.000 lire Belli i miei jeans eh? Niente male Quante cose buone Vai che ci strafoghiamo Bravo E poi qui che ci entra? Golosa sì Ma nel modo giusto Mi basta un Kinder Bueno Non è la quantità che conta ma il gusto In un Kinder Bueno trovi tutto il piacere del cioccolato Ma dentro tra due wafer croccanti È ricco di latte Kinder Bueno Bontà a cuor leggero Bravo bravissimo Bene benissimo I passi di danza più impegnativi I virtuosismi più funambolici I gorgheggi più impossibili Le illusioni più stupefacenti Gli artisti più grandi pur che piccoli Mike buongiorno E Miriana Trevisan Presentano la serata di Bravo bravissimo Che disegnerà i migliori talenti in erba Che andranno a sfidare il mondo Bravo bravissimo Italia Domenica 19 ottobre Alle 20.35 su Rete4 No, 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 no No, 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 no